Ovviamente è possibile boostare l'audio su un gioco grazie a una semplice applicazione, quindi salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema dell'audio che è troppo basso nei giochi anche se hai delle buone cuffie, per esempio io ho le cuffie Razer, quelle buone, però l'audio ti sente veramente basso nei giochi, non sento neanche i passi, quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare l'applicazione FX Sound Booster, quindi questa è la pagina del programma FX Sound, quindi andrà a creare così un dispositivo output sul PC, quindi in questo caso scarica per Windows, installa per Windows e una volta installato se vai sulle impostazioni audio, impostazioni audio, eccolo qua, altoparlanti FX Sound Audio, eccolo qua e qua sotto nella schedina, qui una volta avviato FX Sound su PC, quindi FX Sound, l'applicazione, ed eccola qua, inserisci così altoparlanti Real Tech R Audio, che sarebbero questi altoparlanti FX Sound, e per bustare così l'audio nel gioco, devi fare così, quindi io adesso vado in un gioco qualsiasi, eccolo qua, dispositivi audio, dispositivo predefinito, altoparlanti FX Sound, quindi ogni gioco ha un suo dispositivo audio, che puoi inserire, quindi dispositivo predefinito, quindi dispositivo predefinito, tu inserisci altoparlanti FX Sound, ci clicchi questo, e poi clicchi qua sopra, qui puoi regolare così la frequenza dell'audio, tipo la spenda dinamica aumenterà così l'audio, suono surround aumenterà, boosterà l'audio, chiarezza ambienta, e poi aumento dei bassi, la tengo sul trechio. Una volta bustato, sentirai il gioco, una meraviglia. Quindi, in questo caso, tu puoi bustare l'audio su qualsiasi cosa, per esempio, quindi puoi, quindi sui giochi, sulla musica, sul desktop, su qualsiasi, veramente su qualsiasi cosa, che stai usando su PC. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, siccome è bustare l'audio in un gioco, grazie all'applicazione FX Sound, iscriviti, lascia like, e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.